Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La paura e il timore che l'Abruzzo possa tingersi tutto di rosso è concreta. La variante inglese continua a colpire nelle zone più a rischio e soprattutto le zone rosse mirate continuano a rimanere tali. I numeri di oggi del contagio hanno l'attendibilità che sia ogni lunedì, quando i tamponi processati sono pochi, complice il fine settimana. D'altra parte è così dall'inizio della seconda fase della pandemia. Ecco allora che i 273 nuovi positivi possono sembrare pochi rispetto ai casi di qualche giorno fa, ma il dato va preso con beneficio di inventario. E soprattutto il numero dei tamponi molecolari esaminati, 3524, che è basso. Tanto è vero che la percentuale di contagiosità è pari a 7,7%, che con quel numero di positivi è alto. Non serve a confortare la percentuale complessiva, che vede contabilizzati anche i test antigenici e che è pari al 2,8%. Cinque punti percentuali di differenza sono tanti e quella che conta è la prima. Dove non si può fare affidamento sulle giornate festive, purtroppo sul numero dei decessi, che oggi sono 12. Purtroppo si muore anche di sabato e domenica e il totale delle vittime sale così a 1.813. Delle 12 vittime, cinque sono riferite a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma ben nove sono della provincia di Pescara. Segno questo della difficoltà e del momento che sta attraversando la provincia pescarese e la zona metropolitana in particolare in questo momento. Dove la zona del pescarese tira almeno per oggi un sospiro di sollievo è il dato dei contagi, visto che sono solo 39. E il Chietino, la provincia più colpita anche oggi, sono infatti 96 nuovi positivi, mentre restano sulla stessa linea sia Teramo che L'Aquila, che ne contano rispettivamente 54 e 51. L'altro dato che fa tremare i polsi è quello relativo al numero dei ricoveri ospedalieri. I 22 in più nelle terapie non intensive sono un'enormità e adesso i letti occupati nelle aree mediche sono 665. Per di più resta invariato nella differenza il dato relativo alle terapie intensive, dove i ricoveri sono sempre 84, ma anche questo numero va interpretato, visto che si sono registrati tre nuovi ricoveri e il saldo è dato da tre dimissioni, che però potrebbero comprendere anche dei decessi. Fortunatamente torna a essere più numeroso dei nuovi positivi il numero di coloro che sono guariti. Oggi sono 379 più di ieri e questo significa che il più 100 rispetto ai nuovi contagiati fa sì che gli indicatori, che servono per calcolare l'indice R con T, siano più benevoli nei confronti dell'Abruzzo. Ma ovviamente adesso bisognerà attendere i numeri di domani, che potrebbero essere più veritieri di quegli odierni.